Niente di meno, guardate quanto è bello. Siete pizzeria? Don Peppe. E qui ci sono due Pascalina, la pizza più bella, la pizza che dona... Ingredienti? Crema di friarielli, pomodoro san marzano, olive caiazzane, peperoncino e aglio, all'uscita nuci e olio extravergine. Però non abbiamo detto che Pascalina dona un euro alla ricerca, la ricerca sul cancro. Pascalina è una signora pizza e ha un animo gentile e nobile. Bellissima iniziativa, complimenti.